Registrare vlog è difficile. Allora, ciao a tutti. Di nuovo, dico così perché ho già fatto 60 volte a registrare questo video. Innanzitutto buona domenica, grazie a tutti. Grazie a tutti perché ho raggiunto i fattici 2000 iscritti in un mese. Un mese fa avevo fatto un video dicendovi che ho raggiunto 1000 iscritti al raggiungimento dei 2000 iscritti, vi farò un regalo uno di voi. Eh sì, ci siamo, nel senso che appunto venerdì abbiamo raggiunto i 2000 iscritti, quindi grazie tantissimo, proprio super grazie. Sono un sacco contento del fatto che regalerò appunto questa maglietta del signor Fregacazzi, che è il regalo appunto. Nel caso non lo sapeste perché magari potreste essere delle persone che si sono iscritte recentemente e quindi non sanno che c'è in palio questa maglietta. Ora, faccio questo video per chiedervi, secondo voi come potrei fare per regalare questa maglietta? Perché non sono esattamente una make-up guru, quindi non sono esattamente bravo nei giveaway, non ho le skill necessarie per la creazione di questo giveaway. Quindi volevo dei consigli, volevo farlo con voi. Quindi volevo chiedervi sotto a questo video se potete mettere dei commenti, che boh, che mi hanno delle idee su come pensate che dovrebbe essere regalata questa maglietta. Vi metto solo alcuni paletti, poi prometto che cercherò di seguire tipo quali sono le vostre idee. Non offendetevi se poi non le seguo alla lettera o non le seguo affatto, spero che ce ne siano un po' di idee, tipo tre. Però, boh, sì. Allora, i paletti sono questi. Uno, il giveaway deve avvenire all'interno di YouTube, non su Facebook né su Twitter, perché alcune persone non usano queste robe e quindi verrebbero escluse. Due, il giveaway non deve avvenire per tutti indiscriminatamente, per tutti gli iscritti, ma solo a quelli che si iscrivono al giveaway. Perché voglio che la maglietta vada a qualcuno di attivo, non a qualcuno che magari sia iscritto ma i video non li guarda. Perché boh, perché voleva che io mi iscrivesi indietro, ma cosa ne so, iscritto ricambi, staggete qui. No, io voglio che vada a qualcuno della gentaglia la maglietta, voglio che uno di voi che sta guardando i video in questo momento l'abbia. E siccome non siete tanti, cioè perché non credo che parteciperano tutti e duemila, ma anche se fosse duemila non è tanto, quindi potrebbe essere che il vincitore sarà tipo tu che stai guardando. Quindi uno, deve avvenire all'interno di YouTube. Due, deve essere aperto a tutti gli iscritti, ma non indiscriminatamente. Gli iscritti devono in qualche modo iscriversi a qualcosa. Non so, con un commento, non lo so, datemi un'idea. E boh, e basta, cioè questi sono i due paletti. E niente, quindi, e poi fatemi, ovviamente, forse chiederò al vincitore se vuole che la maglietta venga spedita prima a me, in modo che io, non lo so, ci scriva, tipo, salve, tipo, con un bigliettino accanto. Mi farebbe piacere comunque scriverlo direttamente di pugno, oppure se la vuole direttamente a casa sua. Tanto siamo sotto Natale, quindi la maglietta arriverà tipo a aprile del 2050, visto il casino delle poste natalizie. E niente, è tutto qui, datemi delle idee in the comments, e non lo so, spero di fare, magari di annunciare il giveaway proprio domani, quindi, non lo so, lunedì o martedì, quindi, boh, scrivetemi le storie che inizio a leggerle. Ciao, ciao.